La famiglia di Paternone negli ultimi mesi era finita sulle cronache nazionali per l'inchino durante una processione dedicata a Santa Barbara. Il 2 dicembre scorso due varette si erano fermate a modi omaggio davanti alla casa della famiglia di un pluri pregiudicato degli assinnata clan locale vicino alla cosca Santa Paola. Un omaggio con tanto di musica del padrino davanti alla casa del padre di un esponente che si trovava in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. Oggi, come il figlio, anche lui è finito in manette. L'operazione The End della direzione distrettuale antimafia ha portato all'arresto di 14 esponenti degli assinnata braccio criminale di Santa Paola in provincia. I reati ipotizzati nei loro confronti sono di associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di droga. L'indagine ha permesso di ricostruire le dinamiche criminali interni al gruppo, le modalità di gestione delle somme illecite, definirne la struttura, le posizioni di vertice i ruoli degli affiliati, nonché di ricostruire il volume degli affari legali nel settore delle estorsioni e danni di imprenditori edili e di commercianti di Paternò.